E' stato definito lago della bilancia, quello elettorale di Paolo con il suo 8,57% delle preferenze diventa una risorsa preziosa per i due candidati che finiranno al ballottaggio il prossimo 14 giugno. Da un lato il candidato Udc, il sindaco uscente Umberto Di Primio, primo in graduatoria, dall'altro con una distanza di 6,5 punti percentuali il candidato del Partito Democratico Luigi Febo. La notizia di oggi è che Di Primio dice di non aver bisogno di apparentamenti con Di Paolo e Di Paolo dice di non voler parlare con il governatore PD Luciano D'Alfonso. Con D'Alfonso io non tratto per il semplice fatto che la mia città è chieti, io voglio parlare con i candidati al sindaco della mia città, non perché abbia qualcosa contro D'Alfonso. Non lo so come andrà a finire, sicuramente il sindaco può dire qualcosa che vuole, però si dovrebbe mettere d'accordo con i vertici del suo partito che mi cercano continuamente e che vogliono parlare con me. Evidentemente lui vuole fare il puritano che non ha bisogno e magari il suo partito e i vertici del suo partito hanno bisogno perché sanno che altrimenti andrebbero a casa e perderebbero. A rispondere subito c'è Umberto Di Primio che all'uomo che un tempo faceva parte della sua giunta risponde così. Io non ho vertici notoriamente, sono padrone di me stesso e sono libero da qualunque sia partito che compromissione. Io cerco i suoi voti, l'ho chiamato per fargli i compimenti il giorno dopo le votazioni ed è indubbio che se il suo elettorato scegliesse di votare per me piuttosto che appoggiare il centrosinistra io ne sarei assolutamente felice. Con lui dialogo tranquillo, senza preconcetti, ma per il momento io credo che non si possa e non si debba parlare di alcun accordo elettorale. Infine Febbo, proiettato sulla corsa al voto che per altri 11 giorni terrà tutti con il fiato sospeso. Anche noi stiamo facendo un ragionamento che è quello di incontrare i cittadini quindi rivolgerci a quel 65% che ha bocciato di fatto Di Primio e anche per le liste con chi con noi vuole ragionare sul progetto per la città quindi sul programma e non sulle poltrone.